Chi amo da lupo? Ti userò per prendere la legna e andare a scavare il miniero Ma anche per portarmi lui Ma che stava con la lupo? E la friends in questo video saluto è Eleonora Marieri Carmine Rozza e Brian Pettinato E vi dico subito che se arriviamo in questo video a 10.000 like farò schievi i miei amici Quindi lasciate tutti quanti i like Volete il mio saluto? Cercate questo pappagallino rosso Ok venite piccolini di papà Cucci 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 Che carini che siete mamma mia I miei bambini Ok tranquillo allora adesso il papà si sta mettendo a prendere un po' di legna va bene? Quindi voi andate pure dalla mammina che sta lì in fondo va bene piccolini? Dai ci vediamo dopo va bene? Ciao piccolini ciao 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 Ok perfetto almeno posso mettermi a prendere un po' di legna così Ecco qua ottimo E ottimo tutto qua Ah 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 L'ho preso La mia trappola è infallibile lo sapevo Faccio troppo bene le trappole Cosa? L'ho preso Buongiorno Svegliati Dove? Dove sono? Ah 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 Buongiorno Cosa? Ti piacciono le frustate? Ah 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 Che cosa vuoi da me? Perché mi stai facendo questo? Stupido umano Stai ti prendo Perché ora? Sì sì provaci provaci perché ora tu sei il mio cane Eh? Il tuo cane? Eh sì Ehi sei il mio cane a fare tutte le cose per me Ah 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 Ti userò per prendere la legna e andare a scavare il miniero Ma anche per portarmi lui Ma che stai con un ventaglio Sventolarmi il vento E se non lo fai andrò a cercare la tua famiglia E ci farò una pelliccia Tu sei un essere ignobile Perché mi stai facendo questo? Sì sì Bau 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 anche a te Non li vedrai mai più nella tua famiglia Addio Ops Lasciatela qui voi! Cavolo! Cavolo! Oh no! Che cacchio! Ma che cosa? Ma c'è un po' cacchio qui! Ha fatto benissimo! Ha fatto benissimo! Ha fatto benissimo! Sì, ha fatto benissimo perché guarda che i lupi mannari rischiano di ucciderci! Non so se lo sai ma sono pericolosi! Ucciderci! Ma guarda questo faccino! Ma questo è una cavolata! Io non ho mai fatto del male a nessun esser umano! Perché mi sto facendo questo? Devono prendere! Ecco, c'è pure lui che non ha fatto nulla! Eccoci carino queste occhiette velozine! No, 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 no! Allontanati, allontanati che ti vorrebbe far del male! Potrebbe morderci! Ma non voglio! Ha detto che in realtà mi vuole proprio scavizzare! Vuole farmi fare cose che io non voglio! Eh? Cosa? Ha detto lui! Ha fatto bene, ha fatto bene! Dai andiamo su! Dai andiamoci da qui! Mag! Mag! Forza! Forza! Mi sacco a un braccio! Non va bene questa cosa! Ma non è vero! Mag! Andiamo! 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 Questa cosa non va affatto bene! Per nulla al mondo va affatto bene! Mi hanno messo qua in castigo! Come se avessi fatto qualcosa di sbagliato! Io stavo solamente prendendo la legna! Ai miei bambini! E questo è davvero il destino di un lupo mannaro? Tagliati! Allora iniziamo a slegarti! Oggi inizierà il tuo primo giorno di lavoro! Quindi mi raccomando fai il bravo! Hai capito? E se non farei il bravo? Scusa! Ho perso la concentrazione! Ora andiamo! Fuori! Su! Mi ha fatto malissimo! Mi ha fatto ritornare anche normale! Com'è possibile? Ero diventato lupo mannaro! Che cosa? Ecco a voi il nuovo modello di schiavo perfetto! Ma dove l'hai preso quel coso? Mezzo alla natura! Perché è un lupo mannaro ed è giusto schiavizzarlo, no? Ma allo! Sì! Prego, prego! Ragazzi, ma siete fatti di tutti! Non l'ho mai visto uno! Vedete come è il dirigente? Quanto quando? Perché l'ho ammaestrato bene! Quanto se me lo trappetti di spazio... Ti spezzo il collo! Cosa ho sentito per caso? Se sei arrivato a questo minuto del video, scrivi qua sotto nei commenti cattivelox! Ho sentito qualcosa? Nulla! Ho sentito qualcosa! Che figata! Sembra che mi ha detto il vero! Quella carola di frutta! Com'è possibile che mi faccia così tanto male? Allora! Abbiamo una bellissima cesta! E ci va il legno! Minimo! Quanti pensi, ragazzi, secondo voi? Per una casa intera ce ne vogliono almeno tre stack! Per una casa intera! Tre stack! Tre mila! Allora facciamo sei stack minimo! Ok, quindi due case intera! Ma ragazzi! Prendi questo! Ritorna quando avrai finito! Anzi, venite con me! Andiamo a vedere come lavora! Faccio vedere com'è veloce! Su, su! Muoviti! Più veloce! Che bello! Guardate come scava veloce! È un'innovazione! Vediamo! Guardate come scava! Oh cavolo! Ed è un'ascia normalissima in ferro! Non è possibile! Perché ha una forza molto potente! Che figo! Ma ragazzi! Sei stack, ci voglio! Non va bene così! Oh scusa! Vai! Di più! Forza! Forza! Vabbè di più! Forza! Forza! Abbiamo tutta la giornata! È più veloce! Devo togliere quella frusta dalle mani di quel tizio! Altrimenti non riuscirò più a farcela ad andarmene via da qua! È migliorata! Scusa Elox! Ma quello che vola invece è il legno lassù! Ma scusa ma che maniere ti hanno insegnato a casa tua! Ma che maniere ti hanno insegnato a lasciare che volano! Eh sì è vero! Non c'è mai giocato a Fortnite! Che fai? La scigliatria a 50 HP! Va a romper quel coso! Ha ragione cavolo! Vai! Eh sì è brutto da vedere! No 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 ha ragione ragazzi! Dai smettila! Ma non devo smetterla! Siete voi che dovete smetterla! Ah ok! Molto meglio adesso! Decisamente meglio! Va bene! Vai vai! Continua a prendere altri stack! Altri! Altri altri! Forza! Sei stack vogliamo! Dobbiamo fare la casa! Sì! Ragazzi io non ce la faccio a stare qui a guardarlo! Ma non sai quanto sei! Non potete fare così! Non è una cosa tanto carina! Ma perché? Smettila di essere così gentile! Fatto! Li ho messi tutti! Ah bravo! Vediamo! Uno, due, tre, quattro, cinque e sei! Oh! Avete visto ragazzi? Anche tu! Veramente efficiente! Sì sì! Esatto! E ora penso puoi andartene a dormire in quella tua palla! No ti prego lasciami stare! Io ho dei bambini! Io non voglio! Non voglio più fare queste cose! Ti prego! Ti prego lasciami andare! Ricorda che se non volessi più farlo io farò una pelliccia con i tuoi figli! Oh no! È l'ultimo quanto sei cattivo! È il giusto metodo! Più veloce! Vai! Sfatti le gare! Ci vediamo domani mattina! Sveglia presto! Cioè del lavoro da fare! Mi ha lasciato l'ascia! Sì! Mi ha lasciato l'ascia! Oh cavolo! Guarda come faccio! I miei bambini! Se non dovessi fare quello che dice quel pazzo potrebbero andare lì seriamente e massacrarli! Rufetto! Eh? Cosa? Ehi! Aspetta devo riuscire ad aprire qua! Ok! Allora a me non va bene per nulla quello che ti stanno facendo quindi ti voglio liberare! Oh sì ti prego! Tieni qua c'è un'ascia magari puoi toglierla con quella! Ok! Grazie! Aspetta un attimo anche di qua! Ok! Fatto! Andiamo! Aspetta tienila questa potrebbe esserti utile! Sì! Oh non saprete realmente come ringraziarti però come faccio ad andarmene senza farlo sapere a nessuno! Vieni qua! Andiamo a casa mia! Vieni vieni vieni! Ok momentaneamente forse hai ragione! Aspetta! Ok! Devo provare a fare una cosa! Aspetta un attimo! No! No! Non ci riesco più! Che cosa? Che cosa? Non ci riesco! Non ci riesco! A fare cosa? Non so! Ma quella cavolo di frusta aveva un veleno capace magari di non farmi più trasformare! E adesso non riesco più a trasformarmi in un lupo mannaro io! No! Non è possibile! No 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 no! Non va bene! Forse riesco a trovare qualcosa! Qualcosa per curarti! Qualche pozione! Sai cosa? Mentre cerco qualcosa! Mettiti... Qua sotto che c'è un nascondiglio! Ah qua sotto? Sì! Ok! Perfetto! Così se arrivo a qualcuno siamo a posto! Va bene! Oh! Cosa è questo suono di campana? Oh? Mi sa che c'è qualcuno! Ehi! Ehi! Meg! Sì! Che c'è? Dimmi tutto! Senti! Elox ha detto che ha perso il suo lupo! Hai visto dove è andato per caso? Il suo lupo? Oh no! Sì! No! Io sono sempre stata qui! Non ne ho idea! Sei sicura Zoe? Sì! Sono sicurissima! Sei proprio sicura? Sì! Sì! Sicurissima! Davvero? Non mi dico a sopra! Sì! Sicurissima! Va bene! Ok ti credo! Ci vediamo! Ciao! Ciao! Oh mamma mia! No! Ehi! Ehi! Posso uscire? Sì! 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 Meno male che ha funzionato questa cosa e mi ha fatto metterli sotto! Altrimenti mi avrebbe scoperto e mi avrebbe riportato da lei! Eh sì! Allora io stavo ancora cercando qualcosa ma non penso di avere delle tazioni! Hai qualcosa da mangiare che non ho mangiato a ieri! Ti piacciono le mele? Sì! Sì! Le mele mi piacciono! Ok! Perché hanno gli occhi queste mele? Ma che cacchio? Eh! Sono del mio giantino carino! Ah! Ok! Ho capito! Ah! Eh! Bello! Ok grazie! Oh! Buonissima! Grazie mille! Ah! Oh! Oh! Hanno funzionato! Oh! Mi hanno riportato normale! Forse non mangiavi da tanto per questo! È vero! Oh mamma mia! Grazie mille! Davvero! Non saprei come ringraziarti! Di nulla! Se non con una leccata! Grazie mille! Mi hai fatto selletico! Ciao! Ciao ciao! Ah! Finalmente i miei bambini! Dove sono i miei bambini? Lupo! Lupo! Cosa? Ho capito l'uomo schiavo! No! Non è possibile! Non è possibile! Ti hanno riportato i figli! I ruggioli! I miei bambini! Conssegni a Dio! Li schiarizzerò! No! Senti un attimo! Ok! Lasciali stare! Ti prego! Loro non c'entrano nulla! Hanno tutto un futuro davanti! Ti prego! Lasciali stare! Devi rimetterti nelle catene! Dimmi chi ti ha liberato! Anche se ho già dei sospetti! E non te lo dirò! Non te lo dirò mai! Allora? Allora dimmi! Come non me lo dirai mai? No! Perché ecco! Te l'ho sfigato! Quelli sono i miei bambini! Lascia viva i bambini! E va bene! Ve li mangerò al forno! Conssegni scappate! 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 Scappate ragazzi! Aspettate! Scappate ragazzi! La pietra! Mani nude! Venite! Andiamocene via! Riprenderò! Siamo riusciti piccolini! Mi avevano rubato ma siamo ritornati sani e salvi! Siete contenti? Venite qua! Venite qua! Oh sì! E vai! Tutto bene quel che finisce bene! Sì!